Furto questa mattina in pieno centro cittadino a Polla, in Piazza Ponte, ai danni di una nota gioelleria. Quattro persone hanno piazzato il colpo, al momento non si conoscono le loro generalità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Marsciallo Cunzolo, insieme ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. A quanto pare, dalle prime indiscrezioni, quattro persone hanno piazzato questo colpo qui a Polla. Due persone sono entrate all'interno della gioelleria, hanno distratto i proprietari che al momento erano all'interno del locale e hanno rubato alcuni oggetti preziosi. Dopodiché i due sono usciti fuori nel parcheggio e sono fuggiti via a bordo di un'auto, al cui interno erano presenti altre due persone. Come detto, i carabinieri ora stanno indagando per effettuare i rilievi del caso e conoscere quale sia stata anche l'entità del danno. Grazie.